Al via l'indagine di mercato per l'affidamento sia dei lavori che dovranno durare 80 giorni per un importo pari a 51.140 euro, sia delle forniture per l'allestimento delle aree espositive dell'ex convento di Santa Caterina pari a 132.860 euro, 120 sono i giorni previsti per la consegna e posi in opera che ospiterà a Spazio Video un importante esilo culturale nel cuore del centro storico di Sulmona, vale a dire l'ex convento di Santa Caterina. Si sta procedendo in maniera spedita per consegnare alla città una struttura da troppo tempo abbandonata, interviene l'assessore lavori pubblici Nicola Angelucci, consentendo riportare a combimento nel più breve tempo possibile, con il contributo della Camera di Commercio dell'Aquila, un progetto che prevede la realizzazione di sale espositive museali e di luoghi dedicati ai convegni e iniziative culturali di qualità. L'avviso pubblico di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona. Certo è che Spazio Video non arriva in tempi record se si pensa che doveva servire da traino per le celebrazioni del bimilenario della morte del sommopoeta e invece sarà inaugurato in zona Cesarini. Inizialmente si pensava a un taglio del nastro per la primavera del 2018, poi i tempi si sono allungati anche se questa sembra essere la volta buona.